Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio di Science Roll 4 Siamo i stessi nel episodio della serie Spero che vi piaccia Dovrei aver rimodificato l'audio Ora potrebbe essere bene le quei... Equilibri imparato Quasi ci sono le persone che mi hanno scoperto Che stessi nel episodio di San Antonio E' un episodio di Scef. E' un episodio di Scef. Anche penso che stessi nel episodio di San Antonio Seguro di Scef. Che poteva a tutti i nostri. E' un episodio di San Antonio. Un episodio di Scef. Cosa di Scef. Ma anche la prima cosa è la prima cosa. Va a fare il mio bambino. Sì, 7 gps per fuga and the way in the air, ok, non sdestra, voilà, esci, esci, ah c'era il gps, oddio cos'è quello? L'ho distrutta, scusate, non so, no no. Oh, cos'era quella roba? Ah, va proprio la stessa, oh, cioè magari è un po' cambiata, un po' di quella qua. C'è ancora quindi, se stessi prendendo quella, mi chiederei di prendermi in la head. Non so come si frena per che deravata, ok, ho trovato il freno per che deravata, ok, perfetto. Stazione radio, stazione radio, allora, ovviamente c'è qualcosa che mi piace, sì, si sente male. Che figa! Sembra una Camaro, sembrava assolutamente una Camaro. No, super deravata, scusi. No, l'ho fatta meccanissima cosa. Cosa succede? Facciamo un po' di shopping. Ma questa è un'arma. Boh, prendiamoci la pistola che va sempre bene. Come si fa? No! No! Così? Ah, no, questa che cazzo? No! No! No, che figata! Capitana! C'è questa, camminata, eh? Mi metto qua. No, mi piaceva un sacco. Questo è carino. Vabbè, noi ci teniamo anche questa qui. Aspetta. Ok. Poi la modifichiamo più avanti. Poi ci prendiamo Mitra. Questo. Ce l'ho fatta con Kukla. Poi ci prendiamo questo. E... Sainz. I colpi, ora e anche in alto... No! Va bene. Abbiamo tutto. Comunque è entrato in mio fratello. Volevo riuscire bene ai negozi. Sì. Allora... Aspetta un attimo, ho bisogno di munizione. Così... Ehm... Guarda. Oh, il tia! Io sono il presidente. Cosa mi ha attaccato? Ehm... 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 Aia... Boom! Ehm... Ehm... Vediamo la pistola... Come è? Tenta, spesso. Potente. Ehm... Ragazzi... Voi... Mi dovete dare la macchina che... Ehm... Ehm... C'è un xim patrol che ci tenerebbe che cercare di prima di tutto. Si il presidente è iniziato per chiedere qualche abilità, grazie a tutti, presidente. è una cosa perfetta. E cosa posso dire? Mi servei bene. Non mi servei bene, è subtle. Noi c'è. Noi c'è il gioco. Questa è il gioco a loro canzionare il gioco. Noi 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 noi! Mori, mori! Spagna lento! Oh, cazzo Che succede? Un massacro Ok, andiamo Wow, che casino C'è mio fratello che rompe i coglioni Come una bambina Mi chiamassi proprio un fratello così coglione No, sbagliate Wow, che figliata Super derapatona Oh, ho disinteggato la macchina Ah, scendere, scendere Cos'è? 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 Un fucile d'assalto fighissimo Oh, adesso mi collo Ah, ma sparra così Brutto però Sparra così Sembra un P90 Eh, no, non P90 Un PDV Muori, muori Muori, muori E muori E muori Oh, non muore Oh, ci chiamiamo tutti Ah Sto per morire Vita Muori, muori, muori Muori Oh, fai Oh, vieni qua Che cazzo Oh, ho detto Polizettino Allora, prendiamoci questa macchina Boh, non investita Mi stavo compiando i coglioni Cioè, Lugia, mi seguo Faccio il mio ferino Io ho dovuto fare problemi Oh Ah, questa macchina non mi ha accorto In senso 3 c'era C'era una cosa strana C'era una cosa strana Molto strana Boom C'era una cosa strana C'era una cosa strana C'era una cosa strana Just hang in there I promise I'll find a way to get you out And the sooner the better Ok, i fondamentali Missione Compita Oh, ok Ragazzi, questi video Il test che ci penso Potrò essere anche più corti Dei previsto Perché Io farò Quando sei in veicolo Se va Salvelo con me Arrivata di nuovo Cioè Ok C'era anche negato Comunque Sti video saranno più corti Appunto perché Farò ogni volta Una missione solo E Boh Ragazzi Io Voglio togliermi assolutamente Sto vestito Perché mi fa cagare E Ci vediamo a un prossimo Episodio Ciao a tutti